Ivo Bertaina è il presidente di Agribio e oggi qui a Sanremo insieme a Bigio avete parlato soprattutto di biodinamica, quindi un passaggio che va oltre il semplice biologico che già significa un certo impegno. Biodinamica che cosa significa? Biodinamica può essere un completamento del biologico, è un'attenzione alla pianta e alla terra in un sistema olistico dove la pianta e la terra vengono considerati come un unicum e uno dipende dall'altro, quindi attraverso dei preparati che si chiamano biodinamici o dei dissuasori che servono per tenere lontani insetti, animali e piante pestanti, si crea un ambiente di vibrazioni, di forze che aiutano la pianta a crescere in modo armonico e da tenere lontani gli antagonisti. Insomma tutto per rispettare la natura ma alla fine anche rispettare noi stessi e rispettare anche ciò che poi ci mettiamo in pancia. Dato che noi viviamo nella natura ne siamo ospiti e quindi quando sei ospite dovresti non avvelenare il terreno, quando sei ospite non avveleni quello che ti dà da mangiare, quindi noi partiamo da questo presupposto di essere ospiti e quindi di trattare bene che ci ospita. C'è bisogno di una diffusione culturale di questi concetti per farli capire poi alla fine al consumatore perché il primo passaggio è farli capire ai produttori e fare questa scelta un po' coraggiosa, poi anche però ai consumatori. Certamente, il consumatore deve cominciare a fare attenzione a quello che mangia, quando mangia un prodotto insipido che non sa di niente, che non ha gusto vuol dire che è un prodotto che lo ammala, se mangia un prodotto biodinamico che ha gusto, sapore, colori, profumi, gli dà soddisfazione, quindi un aspetto del mangiare non è solo che bisogna mangiare, quando si mangia bisogna anche in qualche modo godere di qualità che il prodotto biodinamico dà. Possiamo dire allora che un prodotto che va bene magari non deve piacere tanto alla vista quanto al palato? Deve piacere a tutti i sensi, sia alla vista che al palato, però devono essere umani, per esempio nella ricoltura chimica c'è solo la vista, invece nella ricoltura biodinamica la vista è uno dei cinque sensi.